Ancora un incidente nelle campagne retine. Un uomo di 59 anni nella mattinata di domenica ha perso l'equilibrio ed è caduto da un olivo. L'incidente si è verificato nel Cortonese. Subito è partito l'allarme e sul posto sono arrivati ambulanze ed automedica prima dell'arrivo dell'elisoccorso Pegaso che ha calato i sanitari sul posto. Prima di fare il rendezvous con l'ambulanza, l'uomo ha riportato un trauma cranico al vulto e agli arti ed è stato trasferito all'ospedale di Siena.